Cambiano i cantanti ma la musica sembrerebbe sempre la stessa, purtroppo siamo veramente in impasto, siamo fermi, la ricostruzione ancora non è partita, la ricostruzione è pesante, quella che metterebbe in moto un'economia, metterebbe in moto la volontà di poter tornare su quei territori da parte di tanta gente, noi siamo lì, siamo purtroppo in attesa di una cosa che speriamo parta ma che ancora dopo oltre tre anni trova mille difficoltà, fa normative, burocrazie, leggi varie, siamo là. Purtroppo è veramente, ripeto, quasi tragicomica la situazione. Si rafforza ancora una volta il legame tra Arezzo e Norcia, zona duramente colpita dal terremoto. Tra i mercatini di Natale c'erano nello scorso weekend ancora una volta proprio i prodotti tipici arrivati da campi di Norcia, un modo non solo per conoscere altre prelibatezze ma anche per aiutare i produttori di una zona falcidiata. Con l'Arezzo abbiamo veramente un legame particolarissimo perché pensate poi ieri sono passati subito a trovarci gli amici dei Vigili del Fuoco, sono le prime persone, i primi angeli, i primi ragazzi che abbiamo visto a campi quel giorno fatidico del 30 ottobre, quella giornata veramente nefasta che per noi ci ha cambiato la vita. Le prime figure che sono venute ad aiutarci, le prime persone che sono arrivate a campi sono stati gli angeli dei Vigili del Fuoco di Arezzo, dei ragazzi fantastici che ogni volta che ci vediamo mi viene la pelle d'oca perché sono veramente persone uniche, squisite. Sono venuto a trovare un amico che ci siamo conosciuti purtroppo in un evento non molto bello però diciamo che abbiamo stretta amicizia e quindi così sono venuto a trovarlo perché lui è qui a fare sempre un'altra cosa bella e che ne ha fatte tante. Quindi per questo paese che è Campi di Norcia che è stato quasi completamente distrutto diciamo perché anche se è rimasto in piedi però praticamente diciamo che è rimasto in piedi ma pericolante. Poi con Arezzo abbiamo un grandissimo legame perché Arezzo si è subito mossa come città solitale, si è data da fare con varie iniziative, vari eventi, la Conf Commercio, i commercianti della Catona, chi più ne ha più ne metta. Insomma il cuore sconfinato, la solidarietà sconfinata è bellissima e continua nel tempo perché se dopo oltre tre anni siamo qui significa che c'è questo bel legame che continua. Grazie di cuore veramente.